Allora, 18.000 metri quadri dedicati al mondo di Babbo Natale qui al Santa Claus e dell'Andia Village, tre laboratori tra le ambientazioni, quelle che spiccano sono la Sala Trono, l'archivio dei Buoni e dei Cattivi, il villaggio degli Elfi, la camera da letto di Santa Claus, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e poi abbiamo due spettacoli, il circo e abbiamo il musical, uno spettacolo molto molto carino che Babbo Natale appunto combinerà una delle sue marachelle e poi c'è un'area food dove sarà possibile assaggiare anche deliziose pietanze, la pizza oltre alla ciambella di Santa Claus e poi un'area mercatale dove ci saranno tantissimi artigiani, fino al 26 dicembre al Santa Claus e dell'Andia Village, vi aspettiamo!